io quando sono sul palco quando sono in una trasmissione televisiva comunque quando sto facendo il mio lavoro sono proprio felice di farlo questa cosa noi ce la dimentichiamo ogni tanto cioè chi fa il mio lavoro non si rende conto di quanto amore ci sia intorno a te e di quanta passione e di quante cose belle possano nascere da quell'amore uno si concentra sugli haters sulla persona per strada che magari ti dice quella cosa sgradevole perché tendiamo sempre a concentrarci sulla cosa negativa e poi leggi questi messaggi io nel mio caso ho letto questi messaggi e ho fatto amicizia con un sacco di gente da bambina guardando le notti stellate fuori dalla finestra aveva visto persino un ufo non è diventata una meteora alessia marcuzzi esordì in tv nel 1991 e ancora continua a tenere compagnia a milioni di italiani simpatica anticonformista leggera senza essere superficiale in questa intervista alessia marcuzzi si racconta dall'inizio e scopre di essere stata parole sue fortunatissima io sono marco pagani e questo è dicono di te un podcast prodotto da cora media e tender stories per non perdere l'episodio di questa serie clicca il tasto segui e soprattutto attiva la campanellina e se ti va metti cinque stelline su spotify a casa tua si rideva molto no molto molto nonostante i tuoi genitori non potessero essere più diversi tra loro lo hai raccontato uno poeta sognatore libero anticonformista con quella follia hai detto una volta che hanno solo quelli nati in città come trieste in cui la bora la bora che a roma la bora vuol dire un'altra cosa la bora cosa vuol dire capona sei una gran bora è vero è vero però la bora si dicono no che questo vento particolare di trieste sia un po quello che che li rende sempre frizzantini è una cosa patagonica quasi quando soffia soffia veramente veramente invece tua madre nata nel foggiano più diciamo apparentemente severa no parentemente perché apparentemente non era così severa neanche lei perché no sono stati dei genitori severi però appunto papà triestino con origini scozzesi e questo ci tengo a dirlo perché anche lì ti fa capire un po la follia di papà e mamma apparentemente più più severa e anche un po più come posso dirti rigorosa no nel modo di pensare invece poi molto molto libera di testa come papà apparentemente perché con me sono stati dei genitori molto severi ma per gli altri quindi tutti i miei amici adesso e i loro amici quando ero più piccola perché io li spiavo dalle scale di casa facevano feste su feste loro in continuazione loro sono sempre stati molto invece gioiosi simpatici divertenti quindi grandi risate grandi feste grandi comunità di amici a casa che è una cosa che ho ancora tutti tutt'ora io perché casa mia è aperta entrano gli amici quando vogliono senti ma come si incontrano foggiano la tristina perché mamma si è trasferita molto piccola a roma mio nonno che non ho mai conosciuto era un medico e quindi da questo paesino che si chiama roseto valfortore ci tengo a nominarlo perché ormai io sono una specie di simbolo per roseto valfortore ed è stato nominato uno dei borghi più belli d'italia da poco quindi il sindaco adesso se mi ascolta sarà molto contento di questa cosa e quindi mamma si è trasferita con un nonno che aveva due anni e quindi proprio piccolissima papà da trieste con mio nonno diciamo sedicenne prima era andato a milano poi era andato a napoli comunque aveva vissuto perché mio nonno faceva il rappresentante quindi aveva vissuto un po' di città italiane e poi l'ultimo l'ultima città è stata roma e quindi si sono conosciuto ad una festa credo nel quartiere monteverde vecchio perché mamma viveva lì senata nel novembre del 72 che ti ricordi di questi anni di primissima infanzia adesso ti dico una cosa che ti fa ridere visto che abbiamo cominciato con le risate ma mi è venuta in mente adesso mentre me l'hai chiesto e gli ufo tu hai visto gli ufo certo a nettuno una notte tu hai visto gli ufo e non sei stata creduta per anni non sono stata creduta ma sai perché ti dico che ci ho pensato adesso perché quando mi hai detto che ti ricordi degli anni di quegli anni lì perché io ho incontrato un ufologo al maurizio costanzo show tra l'altro e lui era stato invitato per parlare di questi avvistamenti i più grandi avvistamenti di ufo sono stati sulla costiera laziale quindi fra nettuno anzio così fra gli anni 72 e gli anni 78 cioè tu raccontiamolo bene tu sei davanti a una finestra ad un certo punto vedi proprio un disco volante avvicinarsi sì così però hai raccontato io ero troppo piccola per essere creduta la bisnonna ero la bisnonna troppo anziana quindi non ci hanno creduto molto ma in realtà è stato proprio di fronte alla finestra ad un certo punto abbiamo visto questo mi fa ridere mentre lo spiego ma ce l'ho chiaramente questa questa cosa quindi non l'ho dimenticata e come potrei un disco volante enorme arrivare davanti alla finestra soffermarsi per qualche secondo per poi ripartire e questo ufologo mi ha detto che avevo ragione quando è arrivato qualcun altro che non fossi tuo o la tua bisnonna voi avete detto abbiamo visto gli ufo abbiamo visto gli ufo questa non me la ricordo nel dettaglio ero piccola però sì avevo avuto 4 5 anni e mamma ogni tanto me lo racconta e loro mi prendono un po in giro su questa cosa perché quando mi è capitato recentemente anche una persona mi ha conosciuto ho detto sei un po pazza ma te l'hanno rapito gli ufo forse sarei stata rapita e poi sei tornata giù tu che rapporto hai con la memoria pessimo pessimo pensi che sia una rimozione volontaria oppure proprio le cose ti passano non lo so ho una memoria visiva abbastanza buona e però anche a scuola sono sempre andata molto bene perché avevo questa memoria quella io leggo una cosa me la me la ricordo subito per un giorno il giorno dopo però non non ricordo quasi niente perfetta per la scuola per altre cose meno direi forse le cose importanti quelle sono anche per esempio mi dispiace anche un film che sono un amante del cinema comunque in generale anche un libro poi ho difficoltà a raccontarti tutto il film tutti i passaggi tutto il libro perché non ho questa memoria così è una memoria di impressione capito e poi dopo quella invece consistente viene meno però ti eri ricordata per esempio perfettamente la trama di oltre il giardino di ashby no però non me lo ricordo nei dettagli no però avevi raccontato che ti interessava letteralmente il tema di qualcuno che attraverso la tv riesce a raggiungere i propri sogni no in quel caso il giardiniere semianalfabeta che gioca sull'equivoco no quando lo investono in macchina lui dice come ti chiami e lui dice chance giardiniere e sembra che giardiniere sia il suo cognome poi finisce a casa di un amico del presidente degli stati niti no vedi tutti i ricordi particolari io mi ricordo la trama vorrei essere così bravo lo riletti prima di intervistarti vedi allora volevi impressionare la memoria quella dell'impressione no e vabbè però ecco magari io non so ieri se avessi rivisto ieri oltre il giardino probabilmente oggi non mi sarei ricordata il nome il nome del giardiniere capito quindi ci sono dei piccoli particolari che poi mi sfuggono quindi ti so raccontare la trama del film e poi dopo nel particolare mi sfugge quella cosa che però è fondamentale quindi come era casa al palocco dove vivevi tu casa al palocco è stato il mio posto del cuore io vivevo sugli alberi e mi arrampico spesso anche adesso come il barone rampante vai come il barone rampante di calvino mi chiamavano così a casa mi chiamavano così il barone rampante sì innanzitutto ero molto maschiaccio perché mio papà voleva un maschio quindi mi ha cresciuto un po come se fossi un maschio mi vestivo anche da maschio e con i miei amici giocavo con i soldatini robot gig robot d'acciaio sai tutte le cose insomma molto maschili molto maschili quindi poco le barbie pochissimo e poi avevo questa passione di arrampicarmi sugli alberi quindi ero soprannominata il barone rampante una cosa è rischiosissima molto più rischio di tornare nella discoteca in condizioni precarie cosa che invece non ho mai fatto perché dall'altra parte io sono sempre stata una molto nelle regole proprio perché i miei genitori nonostante fossero così socievoli avessero tanti amici poi in realtà erano molto severi quindi io la discoteca quella del pomeriggio che tante mie amiche hanno vissuto no si andava nelle discoteche anche qui a roma dove c'era lorenzo cherubini giovanotti che metteva la musica io invece non l'ho dietro ma io non l'ho fatta così forse veramente ci sarò andato un paio di volte in discoteca di pomeriggio perché i miei erano molto rigidi molto severi però hai ragione tu che era molto più rischioso di arrampicarsi sugli alberi molto più rischio poi voglio dire Casal Palocco per chi non la conosce magari ci ascolta a Treviso è un una sorta di complesso residenziale molto più vicino al mare di Roma vicino ad Ostia ed è in qualche modo una città nella città cioè un appendice dell'ultimo lembo della città a sud che è l'Eur e oltre c'è Casal Palocco quindi per un adolescente vivere a Casal Palocco per quanto ci sia il verde per quanto ci siano le case grandi è come vivere altrove cioè raggiungere Roma anche per un fidanzato ma pure per un fidanzato certo 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 è complicato chi ti viene a prendere a Casal Palocco e ti riporta qualcuno ti ama ti amare veramente quindi mi sono dovuta spostare ad un certo punto e come ti spostavi prendevi motorini mezzi l'autobus ogni tanto mi accompagnava qualcuno che viveva a Casal Palocco e che quindi andava in centro io mi accodavo però devo dire che non ho mai sentito forse così tanto poi la mancanza di una vita sociale nel centro di Roma perché comunque Casal Palocco per me era molto divertente e tra l'altro io sono poco mondana quindi anche tutta questa questa vita è sempre stata perché ti affatica la mondanità? no perché mi diverte stare con i miei amici stretti e poi io ero proprio una ragazzina io ero un po' nerd un po' andavo in giro con la mia amica Marella che è tuttora la mia migliore amica che ho incontrato alla scuola di danza di Casal Palocco e andavo in giro con un piccolo registratore a fare a chiedere alle famiglie in giro per Casal Palocco svegliando anche delle persone che dormivano poveracci chiedendo cosa ne pensassero della festa della primavera veramente? cioè mi è venuto in mente in questo momento e pensa alla follia di una ragazzina di 16 anni che invece di andare a ballare in discoteca andava a fare le interviste su una cosa poi assolutamente però tu hai detto che per esempio quando studiavi dalle suore di Nevers all'Eur eri una commissione di esibizionismo e timidezza cioè sentivi che l'attenzione degli altri era attratta da quello che dicevi, da quello che facevi da come ti muovevi però al tempo stesso, quindi questo diciamo non ti dispiaceva però al tempo stesso poi ti schermivi e ritornavi nel tuo gruppetto è ancora così è ancora così è ancora così nel senso fa parte del mio lavoro, sono una persona egocentrica sicuramente mi piace stare al centro dell'attenzione lo sono sempre stata perché io mi ricordo che a tre anni organizzavo tutte le recite di Natale in famiglia, in continuazione, cioè volevo recitare il mio sogno era quello di fare l'attrice e mio padre ci pagava per non farle queste recite cioè io volevo i soldini della recita e lui ci pagava dicevano guarda quest'anno per favore tu e le tue cugine potete anche evitarci questo strazio quindi avevo questa voglia di fare spettacolo perché è proprio insito nel mio carattere quando sono con gli amici io facevo le imitazioni a scuola alle suore di Nevers e facevo le imitazioni di tutti i professori quindi arrivavano tutti da tutte le classi per vedermi a ricreazione che imitavo tutti i professori quindi avevo questa voglia però poi nel frattempo io sto bene nella mia comfort zone quindi con le persone a cui voglio bene e stare in ambienti dove c'è tantissima gente mi fa piacere però nello stesso tempo la vivo come cioè quando è che torno a casa e sto con i miei, capito? deve essere stato complicato essere sotto le luci dei riflettori per un trentennio ed avere questa natura invece tutto sommato felice di stare nel cerchio di chi si conosce perché poi hai avuto a che fare con tantissima gente che non ti conosceva o che presumeva a chi tu fossi la tv da questo punto di vista può essere molto faticosa però guarda per me non è mai stato così complicato perché per me è proprio una scessione e quindi quando sono in mezzo alla gente e faccio il mio lavoro a parte che il pubblico mi dà così tanto che questa cosa è come un give back cioè quando ricevi così tanto amore ti viene da darlo allora è un rapporto talmente meraviglioso quello che si instaura che non puoi denigrarlo c'è una frase bellissima nell'ultimo film di Sorrentino che devo ancora uscire che si intitola Partenope c'è questa ragazza che vuole fare l'attrice allora va da un'insegnante di teatro che la guarda, la soppesa, la osserva e poi dice sai che c'è? che tu non hai la gioia mentre dici le cose mentre ti esprimi mentre ti muovi e questa cosa la telecamera dice proprio così non te la perdona cioè invece evidentemente a te te l'ha perdonata perché tu comunque eri felice di fare le cose che facevi io quando sono sul palco quando sono in una trasmissione televisiva o comunque quando sto facendo il mio lavoro sono proprio felice di farlo guarda questa cosa l'ho capita anche recentemente perché Fiorello per sbaglio ha dato il mio numero di telefono in onda nella sua trasmissione questo telefono io me lo sono tenuto ho dovuto cambiare il numero ovviamente perché poi era un continuo di messaggi però io ogni tanto vado a rileggermeli questi messaggi perché c'è talmente tanto amore lì dentro e questa cosa noi ce la dimentichiamo ogni tanto cioè chi fa il mio lavoro non si rende conto di quanto amore ci sia intorno a te e di quanta passione e di quante cose belle possano nascere da quell'amore e questa cosa l'ho proprio capita davvero bene vedendo questo telefono perché uno si concentra sugli haters sulla persona per strada che magari ti dice quella cosa sgradevole perché tendiamo sempre a concentrarci sulla cosa negativa e poi leggi questi messaggi io nel mio caso ho letto questi messaggi e ho fatto amicizia con un sacco di gente sempre perché c'è questo aspetto sì sono con il mio gruppo di amici ma poi invece voglio come è successo che il fiorello desse il tuo muro? perché ha inquadrato il telefono di Biggio Biggio è un mio parente tra l'altro perché è sposato con mia cugina Fabrizio come se fosse mia sorella che noi siamo cresciuti insieme a casa al palocco con Valentina e quindi lui ha mostrato il telefono stava inquadrando me e c'era il numero quindi un secondo dopo un secondo dopo niente un inferno però ti devo dire che da questo inferno invece è successo è stato una specie di guarda una specie di visione non so come spiegartela perché è come se fosse un pezzo di un film quel telefono là ho conosciuto un sacco di gente che ancora vive il telefono che ancora vive e io con cui ho dei rapporti cioè delle persone con cui ho dei rapporti un gruppo di un addio che io avevo pensato fosse un gruppo di un matrimonio per cui ho cominciato a chattare poi invece ho scoperto che questi mi volevano invitare al loro addio ad Alicante quindi gli ho mandato proprio una nota vocale gli ho detto ma mi sei preso per una escort ma scusate e da lì siamo diventati amici una bambina che si chiama Adele un'altra ragazza che si chiama Rachele cioè comunque è un gruppo che vive e mi piace conoscere la gente comune normale quindi forse adesso che tu mi stai facendo questa seduta psicologica perché la vorrei chiamare così ti direi che non ho brutto rapporto con il mondo del mio lavoro anzi però mi piacciono di più le persone comuni forse le persone dello spettacolo ma non perché ci sia qualcosa con le persone dello spettacolo è che magari sono abituata a vedere persone che fanno il mio lavoro e quindi o mi rintano a casa mia con i miei amici oppure mi piace conoscere la gente normale però mi hai dato una risposta alla domanda che ti avrei voluto fare cioè qual è il segreto poi perché uno sopravvive e ce la fa e ancora si diverte a fare questa cosa nonostante la faccia da 30 anni e se capita il tuo telefono nell'ether e ti scrivono in 500 perché forse ti vedono come loro in qualche modo mi piacerebbe che fosse così perché credo di non aver mai detto di no ad una persona che mi ha fermato per strada per chiedermi una foto un autografo penso che veramente possiamo fare una specie di test di statistica sì di statistica e non proprio io sono grata al pubblico quindi in generale per me le persone comuni quelle che mi seguono sono molto più importanti di tutto il resto oltre alla mia famiglia i miei amici ovviamente quindi la mondanità è legata a quello cioè la mondanità per me se devo andare a fare una cosa una sorpresa in un matrimonio o una sorpresa in un gruppo di persone che non conosco io la preferisco mille volte ad una prima di un film dove so che poi ci sono tutti i giornalisti i fotografi che devo fare magari sai un po' devi fare quella che sta un po' precisetta attenta anche a tutto quello che dice pur non essendo Alessia Marcuzzi sono d'accordo con te completamente d'accordo con te senti a proposito di dettagli come quello appunto di non dimenticare di farsi una foto con chi te la chiede il primo programma si chiamava attento al dettaglio attenti ai dettagli occhio al dettaglio ora ho una memoria tremenda quindi se me lo chiedi se mi chiedi gli anni attenti al dettaglio attenti al dettaglio vedi io pensavo occhio al dettaglio dove non c'è una traccia nonostante internet si dica che appunto non dimentico nulla della trasmissione cioè si dice solo che tu l'hai fatta non ci sono video non ci sono informazioni quindi queste informazioni le chiedo a te tu hai 19 anni e ti ritrovi catapultato in tv che ti ricordi di quella cosa lì beh allora innanzitutto devi pensare che io ho cominciato la scuola prestissimo quattro anni e mezzo perché forse te l'avevo già detto in un'intervista mia madre mi ha trovato che leggevo il topolino a quattro anni da sola così e quindi sono andata a scuola molto presto hai parlato del genio per questo sì purtroppo poi però e mi ha messo a scuola presto perché ho detto che dobbiamo fare mi annoiavo poi a casa a un certo punto ho finito scuola molto presto a 16 anni e mezzo il liceo e poi sono andata alla sapienza a fare disciplina dello spettacolo lettere con indirizzo disciplina dello spettacolo e adesso ti racconto questo dettaglio a proposito di attenti al dettaglio che ti farà ridere perché siccome arrivavo dalle suore di Never questa scuola solo femminile di suore alla sapienza e tu devi arrivare alla sapienza che sei una persona che un po' ha vissuto diciamo il mondo io a 16 anni e mezzo sono arrivata quindi molto giovane all'università e ho detto forse entrata da sola così c'era un gruppo di persone che stavano lì in mezzo alla piazza quando si entra forse bisogna stare qua in mezzo e mi sono ritrovata credo sul messaggio da qualche parte erano le pantere che occupavano l'università e io sono stata tutta la mattina a un passo dagli scontri a un passo dagli scontri però vestita con la camicetta perché ero piccola perché non ero pronta e il mio primo film è stato La Corazzata Potio tu l'hai visto veramente quel film mi sono addormentata l'ho chiesto al mio vicino di prendere appunti ero tanto giovane avevo voglia di fare spettacolo da quando avevo tre anni ho detto vabbè il primo giorno disciplina dello spettacolo io l'ho fatto ho provato in effetti è in tema con quello che volevo fare dopo quell'episodio all'università non mi hanno più visto praticamente no questo per dirti che ho cominciato quindi a fare questo lavoro che ero veramente tanto giovane ma avevo precorso i tempi sullo studio perché poi in realtà anche se poi l'università non l'ho fatta forse il liceo io l'ho finito veramente tanto presto e non avevo magari la testa per concentrarmi su altre cose perché l'università è veramente il primo momento in cui ti ritrovi da sola in una moltitudine quella cosa lì può può spaventare e non avendo neanche avuto la possibilità di fare una vita sociale stando a casa al palocco fondamentalmente fino a quell'età è stato un po' un trauma ma da quando più o meno avevo 16 anni io facevo provini per pubblicità per trasmissioni televisive quindi mia mamma mi accompagnava quando finivo scuola mi aspettava sotto al portone del posto dove facevo il provino quindi io questa necessità di stare nel mondo dello spettacolo ce l'avevo già da piccolina comunque da quell'età lì da adolescente però per esempio non hai quel tipo di genitore con il metaforico randello dietro la schiena pronto a dartelo solo quando tu fai il primo calendario senza veli tuo padre ti dice sei una bellezza disarmante che è la frase che forse chiunque si vorrebbe sentire dire a prescindere ma non sono mai stati giudicanti non mi ero mai costretto a fare nulla cioè volevano che io studiassi poi quando hanno capito che la mia esigenza era quella di di provare a seguire i miei sogni li hanno accompagnati e devo dire che li ringrazio per questo perché è importantissimo è vero che studiare è fondamentale però insomma i miei studi principali li avevo fatti poi mi è andata così bene perché a 17 anni poi in uno di questi fatidici provini ho avuto una trasmissione prima di occhio al dettaglio forse arrivano i mostri una trasmissione un po' recitata tra l'altro con vari attori per i bambini una trasmissione per i bambini e poi forse c'è stato ma non mi ricordo niente perché ho la memoria pessima quindi non so se c'è stato prima occhio al dettaglio o poi arrivano i mostri in realtà c'è stato prima occhio al dettaglio e poi amici mostri amici mostri con i costumi fatti da Sergio Stivaletti che era il grande Deus Ex Machina di tutte le visioni di Dario Cento quindi per dire quanto la tv era straordinaria anche 35 anni fa ho rivisto una serie tutta ambientata italiana sul Ray 2 ambientata a Venezia fatta da ragazzini sconosciuti direttore della fotografia Dante Spinotti poi direttore di LA Confidential di altri film enormi musica di Pino Donaggio cioè voglio dire la televisione la televisione bravo ma molto molto sofisticato per essere un programma per i bambini perché aveva Sergio Stivaletti e tantissimi attori di teatro Nini Salerno ma poi c'erano tanti attori bravissimi di teatro che lavoravano con me ed è stata quindi a questo punto la seconda esperienza ciò lo raccontava Benedetta Porcori qualche settimana fa se tu inizi a lavorare presto in qualche modo anche se a casa tua non c'era un'accademia militare tu ti devi guarnire delle stesse regole che ha il soldato cioè a quel punto non puoi più giocare con un calciatore che inizia a 14 anni della propria carriera eccetera senti che un pezzo di post adolescenza è stato rapito dall'inseguimento di provini dalla fortuna di essere stati presi eccetera eccetera se ti devo dire no perché era davvero quello che volevo fare e quindi Benedetta ha cominciato tanto presto molto prima di me a 13 anni secondo me quell'età lì preadolescenziale è veramente molto delicata penso a mia figlia che ha 13 anni che vuole fare l'attrice e che insomma è davvero ancora piccola no per forse se la penso catapultata nel mondo del cinema o insomma dello spettacolo adesso mi viene un pochino l'ansia io avevo quando te l'ha detto tua figlia mia che voleva fare l'attrice me l'ha detto ormai sono 10 anni che me lo dice da quando a 3 anni perché io devi sapere che costringo i miei figli a vedere la notte degli Oscar anche Tommaso tutti gli anni e tengo tutta la casa sveglia e qui fino ai 5 anni e qui lungo tutta la notte fino alle 5 di mattina quindi loro non ne possono più Tommaso proprio vabbè ormai ride e mia ad un certo punto mi ha detto quando ho cominciato insomma ad essere un po' più grandi mi ha detto io l'Oscar lo prenderò per te così non ci rompi più le scatte ma tu a Tommaso l'hai detto che avresti potuto avere una grande carriera americana portata da Harvey Keitel certo certo gli ho detto però amore poi dopo mamma ha incontrato papà quindi alla fine beh l'hai fatto per loro in qualche modo l'hai fatto per quella e sono felicissima ovviamente di quello che è successo però io dico mamma è un'attrice mancata d'altronde Tommy potevo prendere l'Oscar molto facilmente io capito beh comunque tu hai lavorato con David Bowie con Harvey Keitel sul set di Giovanni Veronesi che ci ha raccontato proprio qui di aver firmato delle finte copie dei dischi di David Bowie perché perché il Duca non era così felice insomma di prestarsi a firmare dei dischi no ma soprattutto la gente lo aspettava da quattro giorni prima nella Garfagnana cioè dormivano nei sacchiappelo per vederlo ovviamente come eravamo tutti in fibrillazione anche io io dovevo fare la fidanzata vabbè allora la maîtresse di questo bordello quindi ho baciato Harvey Keitel e poi in realtà sono stata violentata hai ucciso da David Bowie quindi non è una cosa da poco ma per niente però io ero spaventata sul serio beh molto inquietante perché lui comunque gentilissimo carino con tutti però ti metteva molta soggezione no anche per quello che era è uscito un bellissimo documentario su di lui l'anno scorso al cinema ed era fantastico perché il documentario è fatto solo di parole di Bowie quindi non c'è mai nessuna interpolazione nessun intervento degli altri quindi è Bowie che si racconta all'inizio alla fine e alla fine ti dice una cosa straordinaria ti dice tutti hanno dato appunto letture psicanalitiche di costume di rivoluzione in quello che io facevo ma io ero e sono stato sempre solo un guitto cioè mi dicevano fai questa cosa e io la facevo ed è fantastico perché secondo me questo ha molto a che fare con quello che noi proiettiamo sugli altri per questo ti chiedo al di là del divertimento e del fatto che trovo apprezzabile di sentirsi fortunati ad aver fatto quello che hai fatto quanto questa cosa in qualche modo comunque ti è costata cioè l'idea che gli altri proiettassero sudditi la loro idea che è il destino degli attori poi alla fine anche dei registi se vuoi sì degli attori poi soprattutto perché loro impersonano dei ruoli e quindi uno ha come quel personaggio rimane dentro di te certo e le persone che ti incontrano per strada certe volte non guardano la persona e l'essere ma guardano e hanno l'immaginario di quel personaggio per quanto mi riguarda invece io sono quello che sono cioè diciamo che secondo me aveva ragione chi è che l'ha detto che mi sono già dimenticata era partenope di Paolo Sorrentino la Isabella Ferrari che fa l'insegnante di teatro dice all'altro all'altra la ragazza che si chiama Celeste dalla porta che è l'attrice principale del film sei senza gioia e questo la telecamera non te lo perdona e questo la telecamera schermo che si mette in mezzo fra lo spettatore e la persona che sta facendo il mio lavoro è abbastanza secondo me non tradisce tanto certo alla fine un occhio attento una persona che ha un minimo di sensibilità di intelligenza emotiva lo capisce poi com'è la persona dall'altra parte dello schermo quindi tornando a quello che mi ha tolto sicuramente il fatto di essere e di dover essere in mezzo alle persone un po' quello che si aspettano gli altri che tu sia soprattutto per chi conduce dei programmi televisivi secondo me più che un attore è a volte un po' limitante per la tua vita privata per la tua vita in generale quindi è per questo che torniamo al fatto che io sono una persona poco mondana perché siccome io non riesco a risparmiarmi io sono molto grata al pubblico e quindi se ci sono le persone intorno a me se sono in uno spazio dove ci sono delle persone che mi riconoscono io mi do tantissimo e questa cosa mi toglie energia è un'energia buonissima però me la toglie quindi mi stanca molto e allora è per quello che io cerco di evitare i posti troppo affollati perché se vado in un posto molto affollato non sono quella che si mette in disparte e tiene il muso cerco di essere conviviale con tutti e sorridente con tutti quindi un po' come era una grande figura che ti hanno detto spesso ti somiglia sono un altro come fisiognomica che era Monica Vitti magari che diceva una cosa bella diceva nella vita io ho fatto meno di tutti i lussi e non potevo appunto dormire in saccappello però mi sono concesso un solo lusso quella di rifiutare delle cose quante volte hai detto di no tu in questi anni tante tante quante volte te ne sei pentita non lo so devo dirti la verità forse mai forse mai forse mai ma perché poi una volta hai detto no lascia andare la cosa no perché vivo di sensazioni e la mia pancia è importante quindi cosa è che ti fa scappare come istinto dalle cose sento qualcosa che non va così a pelle istintivamente quindi questa cosa mi fa scappare non mi sono pentita del no però magari mi sono pentita di aver fatto qualcosa al contrario magari la mia pancia non mi ha avvertito e quindi ho fatto delle cose e poi non mi sono piaciute quindi diciamo al contrario mi è successo fare una carriera così lunga diceva Carlo Verdona una cosa bella non è tanto il successo di un istante a dare la cifra di quello che sei ma durare 10 20 30 40 anni questa è l'idea che tu abbia attraversato il tempo in cui non c'erano i telefonini il tempo in cui c'erano 5 canali tv le piattaforme televisive neanche ce le potevamo sognare eccetera e sei arrivata fino ad oggi miracolata per il tuo aspetto che ti riporta i tuoi 18 anni però di fatto hai attraversato 13 anni tanto sì è tantissimo grazie per il complimento l'ho colto comunque il complimento sì certo nel senso che sei un'eterna ragazzina però ti ringrazio però è un po' strano anche per me quando ci penso perché poi lo spirito della ragazzina io ce l'ho tuttora quindi a volte quando penso che sono più di 30 anni che faccio tv mi spavento grande contraddizione tua tu hai detto sempre io mi sentivo vecchia già da quando avevo 20 anni eppure dentro questa vecchia tra cento virgolette pulsa una ragazzina sì tutte e due le cose tutte e due le cose vero e ce le ho molto ben fortificate dentro di me questi due aspetti ancora adesso non è bellissimo essere contraddittori? è bellissimo però a volte ti mette in una situazione di confusione anche nei confronti degli altri quindi non è sempre facile no certo perché io ho una parte leggerissima di me e una parte pesantissima pesantissima com'è questa parte pesantissima? come si espleta come si 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 con i miei figli sono abbastanza severa pesante cioè le mie amiche ogni tanto mi dicono molla molla perché io sono molto forse proprio perché ti ho spiegato appunto i miei genitori sono stati molto severi con me lo sono anch'io con loro i controlli questi figli sono abbastanza intransigente dovrei essere dovrei lasciarli un po' più liberi anche perché poi più tu sei intransigente più loro tentano di scappare per fare quello che non gli permetti di fare è la logica del proibizionismo certo si capisce perché io che dovrei essere una persona abbastanza intelligente dovrei cercare di capire questa cosa che faccio però tu sei cresciuta senza social network e questo secondo me fa una differenza enorme nel senso che non c'era idea noi avevamo quando eravamo fortunatissimi delle telecamere grandi come questo divano e più in generale avevamo le polaroid oppure le foto da stampare ed è questo il problema capito perché questo mezzo meraviglioso tutti comunque il telefono i social media in generale possono essere davvero divertenti e davvero innovativi per tante cose ma poi in realtà io con i miei figli sono invece intransigente per esempio su questo ormai il mio grande no ovviamente fa la sua vita ma la mia piccola ai 13 anni e i social media rompo le scatole su tutto il telefono non si deve guardare più di tanto durante il giorno a tavola mai quindi va bene non sono pesante solo sulle cose di famiglia sono pesante su degli aspetti della vita che sono anche dei miei pensieri emotivi delle situazioni che mi capitano ma quello che si percepisce di me è quasi sempre la leggerezza quindi io sono felice di questo perché uno per me la leggerezza è un valore aggiunto però la fine una volta hai detto che certe letture superficiali certe letture manichee o se vuoi anche pigre quando ti descrivevano come leggera volevano dire superficiale che non c'era sostanza eccetera e quindi questa parola leggerezza che in sé per sé è meravigliosa con te veniva usata con un tono di diciamo l'aspetto fisico è un aspetto determinante in questa vicenda della leggerezza per dirla con Italo Calvino ancora brutta zoppe collotorto come quando ero piccola che mi arrampicavo sugli alberi vestita da maschio con i capelli rossi probabilmente la leggerezza non perché i capelli rossi ma perché io sono un po' biondo veneziano io non sono completamente biondo faccio i colpi di sole sono un po' aranciata un po' aranciata e quindi certo secondo me l'aspetto fisico è determinante in questo binomio di leggerezza e fisicità prorompente devo dire che adesso poi con il passare degli anni facendo questo lavoro da un sacco di tempo questa cosa non succede più insomma forse quando l'inizio certo l'inizio di più adesso meno perché poi quando uno ha la propria carriera non è che insomma questa cosa un po' passa ma soprattutto all'inizio sì era evidente che una persona fisicamente diciamo dotata o comunque fortunata non può essere di sostanza ecco lo noto in qualche intervista la noto ancora questa cosa qualche così qualche tipo di discriminazione mettiamola così che poi non è una vera discriminazione hai detto anche se facciamo fatica a crederti però ti vogliamo credere che hai avuto anche tantissime insicurezze no? sì ma quelle ce le ho ancora quelle ce ne hai ancora certo ma sono bellissime le insicurezze bisogna bello bello dimmi perché sono bellissime le insicurezze perché ti rimettono perché ti fanno stare con i piedi per terra perché cioè sono bellissime nella misura in cui non diventano un problema grosso e soprattutto le insicurezze sono problematiche quando un ragazzo è adolescente però sono anche quelle che ti formano sono quelle che ti fanno ragionare che ti fanno diventare una persona così come diceva un po' più pesante di sostanza perché sono quelle che ti permettono poi di capire quali sono i tuoi limiti quali sono le tue difficoltà e se una persona non ha non ha insicurezze come può pensare di avere un sogno per esempio è vero e sognare è la cosa più importante tu continui a farlo continuo a farlo continuo ad avere insicurezze e le insicurezze mi permettono di sognare meglio per poter raggiungere degli obiettivi non ti piacerebbe mai avere la testa di oggi riportata ai tempi meravigliosi di libertà in cui non c'era mezza responsabilità e magari come i personaggi di Ammaniti io non ho paura tu avevi lo stesso scenario davanti durante l'estate il grano la perdita d'occhio i campi bruciati la testa di oggi sulla ragazza che sei stata sì ogni tanto penso che sarebbe stupendo poter avere quella leggerezza di poter fare le cose senza pensieri senza giudizio di non avere le responsabilità ma dall'altra parte la responsabilità poi e la saggezza e la maturità ti rendono anche più affascinante quindi non lo so non saprei dirti non è una cosa a cui penso devo dirti la verità ogni tanto ritorno con la testa e con i pensieri a quella che ero alla ragazzina di casa al Palocco che andava a fare i compiti al mare a Ostia e faceva il bagno a gennaio nell'acqua gelata perché sono abituata così ma poi sono talmente felice di quello che sto facendo adesso e di quello che ho creato al di là della tv io delle imprese e lavorano con me tanti ragazzi giovanissimi la creatività che mettiamo nelle nostre riunioni nelle nostre giornate di lavoro mi rende felice e lì c'è tanta responsabilità perché ho delle persone che lavorano per me cosa che in tv non mi è mai successa quindi ho scoperto anche questo aspetto da imprenditrice diverso da quello di presentare dei programmi che mi dà delle responsabilità perché io so che delle persone lavorano per me e sono anche abbastanza quindi ti mette nella posizione di dire dobbiamo fare bene dobbiamo andare bene anche per loro quindi l'hai detto a un certo punto che ti eri stancata di interpretare in qualche modo copioni scritti da altri e hai deciso di metterti nella fase di scrittura perché ti rendeva più felice ecco sì mi rendeva più felice ero stufa forse di fare determinati tipi di programmi che magari non sentivo più nelle mie corde e quindi mi sono presa un po' di tempo per me durante questo tempo per me ho scritto un paio di programmi uno l'ho fatto altri verranno chissà però sì avevo l'esigenza di fare qualcosa di mio ti sembra un grande lusso e un grande rischio perché non c'è luogo come la televisione in cui se tu con tutte le mostrine sulla giacca i premi messi da parte però ti allontani e sparisci il rischio dell'oblio fortissimo no? sì sì l'ho fatto però molto consapevole del fatto che avessi un piano B che era diventato un piano B consistente e fare l'imprenditrice sì nel senso che probabilmente non ci sarei mai riuscita quindi te lo dico con molta sincerità non sarei mai riuscita a lasciare la tv in quel momento se non avessi avuto dei feedback positivi e delle soddisfazioni dall'attività imprenditoriale perché lì è un po' complicato lo capisco perché sei abituato a stare in tv da quando sei piccolo comunque hai una vita fortunata agiata e tutto mollarla così e avere la paura di non tornare più è sì per una persona che fa il mio lavoro è molto così difficile ma avendo capito le spalle coperte da quest'altra cosa che mi rendeva molto contenta che mi dava la possibilità di creare di più e anche economicamente mi metteva in una situazione di poter far stare la mia famiglia bene perché quella è la mia priorità anche perché il mio lavoro io non lo posso lasciare ai miei figli al di là del fatto che mia voglia fare l'attrice ma non lo sappiamo se ci riuscirà sì o no e invece le mie attività parallele sì quindi volevo creare qualcosa anche da poter lasciare a loro quando ho avuto la certezza che queste attività stavano andando bene allora ho detto ok posso prendermi un momento di pausa quindi diciamo me la sono giocata bene cioè è stata è stato un momento giusto per me ma tu tra vent'anni ti ci vedi in tv? non lo so non lo sai? no forse no magari scriverei dei programmi bellissimi per altri no? sì io sono talmente creativa che scrivo e invento idee per chiunque ed è una cosa che è anche imbarazzante per me perché io incontro le persone dopo poco tempo che parlo con quelle persone mi vengono in mente delle cose da poter creare insieme dei lavori e delle esperienze da poter vivere ed è talmente tanto tumultuoso tutto questo conta che io adesso mi sto forzando a parlare piano perché tu parleresti velocissimo perché io parlo molto più veloce di quello che sto facendo e i miei pensieri vanno ancora più veloci delle mie parole ed è a volte anche un problema per me perché tutte queste idee che ho in testa non riesco poi a concretizzarle e anche con le persone che lavorano con me sulle mie attività imprenditoriali ogni tanto mi dicono Alessia anche perché io ho già capito tutto quello che mi vogliono dire molto prima che me lo vogliono dire quindi diventa complicato però ogni tanto diventa complicato starmi vicino in generale tu sottoscriveresti la frase di Raffaella Carrà la vita è una partita a carte a me piace avere il brazzo in mano assolutamente vero? sì non si fa in qualche modo se almeno tu non metti non dipingi una parte del quadro non si fa non si fa no non è possibile però mi piace la condivisione della partita cioè nel senso che voglio essere probabilmente il giocoliero cioè quella che tiene in mano il mazzo di carte però poi in realtà il gioco non si può fare se non si è in tanti e non si è un gruppo per cui per me il gruppo è fondamentale è vero sono l'animatrice del villaggio mettiamola così esatto come Fiorello in Costa Lavori dell'81 un giorno ti sei portato un cartonato di Fiorello mi hanno cazziato da morire mi hanno cazziato da morire sì beh perché andava in onda contro di me io facevo una puntata del grande fratello e lui cominciava il grande spettacolo dopo il weekend ed era la prima puntata sulla Rai su Canale 5 e io ho detto dentro di me ma chi è che ci guarda stasera avevamo dei buonissimi risultati ma Fiorello è Fiorello è imbattibile non si può fare nulla tra l'altro io lo conosco da sempre perché tra l'altro Fiorello è stato anche l'animatore di un villaggio dove sono andata io in vacanza quando ero piccola anche se non abbiamo tutti questi anni di differenza però sai quando hai 15-16 anni vai in un villaggio bravissimo quindi ho detto ma chi ci guarda stasera nessuno allora mi ricordo che qualcuno mi ricordo ho incontrato qualcuno che mi fece un'intervista e mi diede questo cartonato proprio forse Politi qualcuno che venne sotto casa mia con questo cartonato di Fiorello per prendermi in giro ovviamente Gianni Politi e per prendermi in giro io ho detto ma me lo regali per favore e non ho detto niente a nessuno e ho nascosto il cartonato di Rosario nella doccia del mio camerino perché ho detto se mi becca qualcuno della produzione sicuro me lo tolgo non ho detto niente a nessuno neanche al capoprogetto nessuno e c'era un tunnel prima di entrare proprio sul palco del grande fratello e mi sono presentata al fai conto un secondo prima di cominciare la trasmissione con lui ho scritto un braccio così benvenuti benvenuti al grande fratello così io vedevo le facce di tutta la produzione che mi guardavano così e poi l'ho messo seduto in mezzo al pubblico perché io ho pensato allora non ci vede nessuno ma se dovessero sbagliare e vedo uno Fiorello che sembrava che stesse lì a guardare la trasmissione forse si fermano sotto i modi quindi si lo fa però è bello perché ti racconta come alla fine tu hai messo uno schermo di autorionia di leggerezza di divertimento e di allegria in un mondo che è sovente incline a prendersi a prendersi sul serio ti raccontro una cosa personale io a un certo punto non era proprio il mio mestiere però vengo preso per fare l'autore di un programma della Carrà che doveva andare benissimo che non andò benissimo e questo programma durava tre mesi e io mi ricordo benissimo le facce di capostruttura della TV di Stato e queste riunioni in cui non era difficile percepire la nevrosi quindi ho pensato ma la TV è un inferno farla perché comunque alla fine non c'è niente di decubretiniano in questo cioè tu non puoi partecipare devi vincere devi aspettare le 10.01 è la battaglia dell'ascolto è la battaglia dell'ascolto è la battaglia dell'ascolto che ti mette in una situazione di ansia totale quindi è vero e anche se tu hai questo dono della leggerezza saranno gli altri a farti percepire il nervosismo perché muove tante teste tante umanità tanti tante ambizioni e lì subentra la mia parte pesante perché poi in realtà è vero leggerezza e tutto però poi quando ci sono delle dinamiche di nervosismo divento nervosa anche io è normale io assorbo tanto le cose che succedono intorno a me io leggo il labiale ti arrabbi mi arrabbio quando vedo delle ingiustizie o delle cose che non hanno senso delle arrabbiature per delle cose che non sono come si arrabbiano gli altri quando faccio qualcosa di sbagliato io quindi non è che nego agli altri l'arrabbiatura poi tra l'altro le persone che sono intorno a me io penso di essere arrabbiata tantissimo mi dicono guarda che eri gentilissima quindi forse non è neanche un'incazzatura così grande però io ho anche ho i sensi molto spiccati quindi un udito molto spiccato leggo anche il labiale delle persone quindi se c'è qualcosa che non va io l'avverto molto facilmente perché anche da lontano recepisco tutto capito io sento che in questa cosa che hai detto prima sul sapere già che cosa gli altri stanno per chiedere o che cosa pensano 30 secondi prima 20 10 c'è una grande idea di programma non so ancora quale ma c'è un'idea di programma vedi? ce l'hai avuta tu l'idea non ce l'ho avuta ma insomma l'idea però secondo me da quel telefono lì con tutti quei messaggi possiamo ricavarci un podcast una storia ma certo scusami quando Radio Radicale a un certo punto lasciò i microfoni aperti e chiamavano questi ancora col gettone telefonavano e alcuni insultavano alcuni leggevano poesie altri tiravano giù dei moccoli era un programma ma era un programma infatti diventò un libro cioè in cui c'era questa specie di flusso continuo di pensieri perché poi a te non piace stare nelle serate mondane e preferisci 10 amici a casa eccetera però c'è un mondo di gente molto sola anche no non proprio esattamente aiutata secondo me dall'idea che accendi una piattaforma e ti ritrovi 500 film e non esci più capito quello ti chiude beh sì ti ti dà tutto quello che vuoi in quel momento di quello di cui hai bisogno per cui non hai la necessità di uscire e socializzare tu che sei una grande fruitrice di serie l'hai trovata una serie migliore di Breaking Bad dopo averla cercata per anni beh sì adesso mi devo fare la lista di 10 secondi in testa però io sono Big Little Lies è stata una serie che ho amato molto no sto pensando ad una serie da superare Breaking Bad recente è molto difficile superare Breaking Bad sì oggettivamente lo è nei prossimi minuti mi verrà in mente mi hai detto che non ti interessa tanto il rimpianto anche perché hai questa memoria selettiva per cui alcune cose le elimini invece a chi devi dire grazie che sono stati i mentori veramente importanti non se ne possono scegliere troppi al di là dei tuoi che ti hanno sostenuta che è stato veramente importante nel mondo del lavoro in generale di che cosa parli no nel lavoro parlo del lavoro a Fiorello devo dire grazie perché ai tempi del festival bar mi ha insegnato cosa volesse dire animare il pubblico prima di andare in onda che è una cosa che mi porto dietro ancora adesso c'è una figura tecnica si chiama scalda pubblico quelli che agitano noi l'abbiamo fatto sul serio perché lui avendo fatto animazione nei villaggi mi ha detto Alessia noi dobbiamo andare lì dal pomeriggio quando tutti stanno sotto il sole e morire dal caldo nelle piazze non dobbiamo arrivare belli freschi la sera stare con loro animarli e noi abbiamo fatto una finale in piazza del plebiscito che c'erano 300.000 persone che è una roba impensabile e questa cosa per esempio che lui mi ha insegnato io me la porto dietro ancora adesso quindi sicuramente ogni volta che faccio una trasmissione arrivo molto tempo prima per cercare di fare amicizia di conoscere le persone di capire se c'è qualcuno che mi può aiutare anche quando sono in onda perché a me piace il contatto col pubblico per cui proprio per quella cosa che ti raccontavo del telefono io ho fatto amicizia con delle persone su quel telefono perché questa connessione mi aiuta a fare meglio la mia serata la mia puntata e questo me l'ha insegnato Rosario me l'ha insegnato Fiorello perché lui lo faceva sempre e lo facevamo insieme noi stavamo 4-5 ore a fare le prove con i cantanti che arrivavano a scaldare il pubblico a tirare su delle persone del pubblico a farle arrivare sul palco lo faccio tuttora quindi a lui devo dire grazie devo dire grazie a Cinzia Malvini che è una giornalista che lavorava a Telemonte Carlo diciamo prima di continuare poi a fare il suo lavoro ma anche insomma quando ero adolescente avendo finito gli studi però ero ancora adolescente a 16 anni e mezzo 17 mi cominciò a dire di fare dei provini delle cose così e poi dopo tra l'altro sono stata presa a Telemonte Carlo per il programma Occhio al dettaglio come mi hai ricordato tu sempre in seguito ad una sua propensione era amica di mamma e diceva adesso deve fare i provini deve andare deve andare quindi così mi viene in mente il suo nome adesso perché è stata una persona che mi ha spronato molto e poi devo dire grazie ai miei genitori che non mi hanno mai bloccato ma sto pensando ad un'altra figura che mi ha insegnato magari tanto nel mio lavoro proprio perché mi hai chiesto del mio lavoro sai poi io ho fatto programmi anche molto da sola cioè io ho condotto tante cose anche da sola quindi io i grazi li vorrei dire alle persone che hanno lavorato con me perché sono quelle da cui poi ho imparato tante cose non sono una persona che credo sia mai stata spinta da qualcuno però era un agente che potrebbe stare in libri di filosofia e non in molti lo sanno però Beppe Caschetto lo sai che mi ero dimenticata e invece hai ragione perché il mio primo agente è stato proprio lui io ero proprio piccola quando Caschetto quando Beppe mi ha chiesto un appuntamento devo dirti un uomo molto simpatico un uomo molto simpatico se lo riesci a vedere perché è come Charlie di Charlie's Angels assolutamente tu l'hai mai visto Charlie? no è vero è invisibile però questa cosa è bellissima è stupenda è bellissima e lui è invisibile lui è proprio se mi passi l'impropria metafora è la Marcuzzi uomo cioè lui non vuole uscire non vuole vedere nessuno no lui è peggio di me no più patologico in confronto io sono l'animatore delle feste non lo so però quello vuole dire che è un uomo acuto del 10-10 in confronto in pizza capito no no Beppe hai ragione io devo dire grazie a Beppe perché tra l'altro io ho cominciato la mia carriera quando lui veramente non aveva anche lui forse stava non ti dico cominciando ma quasi perché aveva pochissimi personaggi nella sua agenzia forse aveva solo Alba Parietti e mi diede un bigliettino da visita io stavo conducendo il gioco dell'Oca insieme a Gigi Sabani conduceva io e Paola Saluzzi facevamo le le co-conduttrici e lui portò Alba Parietti come ospite e mi diede un bigliettino da visita ma vengo a trovarmi a Bologna perché secondo me noi dobbiamo fare una bella chiacchiera sono andata a Bologna con mio padre perché avevo paura che ne so sai quelle cose dico ma non lo conosco chissà che succede non avevo mai avuto a che fare con gli agenti televisivi capito e quella è stata un po' anche forse la mia fortuna sì perché ho incontrato una persona per bene molto intelligente che ha saputo anche dosarmi diciamo che non faceva molta fatica perché quando lui mi diceva non ci deve far vedere in troppi posti non deve andare poi mi portava a noz perché io non ci volevo neanche andare di mio quindi e abbiamo fatto un percorso insieme sì anzi è strano che non te l'abbia detto forse per primo come nome perché abbiamo fatto insieme un percorso importante lui mi ha fatto fare il calendario nuda è stato lui è stato lui sì quella è stata una mossa geniale di Beppe perché io che ero maschiaccia che facevo un programma per ragazzi colpo di fulmine perché il programma che mi ha dato il grande successo poi invece è stato in mediaset appunto colpo di fulmine che era seguitissimo dai ragazzi che tornavano dall'università o da scuola perché era quell'orario strategico delle due e mezza e adesso non c'è più un programma così no c'è uomini e donne di Maria insomma ci sono dei programmi che ti fanno capito ti fanno tornare a casa e ti fanno guardare la tv ma in quel momento è stato proprio il programma del momento chiamiamolo così lui fece quest'operazione con il direttore di Max dicendo ma questa ragazza che viene vista da milioni di spettatori che corre per le strade con le sue gambe storte che va in giro a creare il colpo di fulmine fra i ragazzi ma potrebbe essere un'operazione fantastica fare delle foto sexy con lei e vedere che succede mi diedero una copertina prima del calendario e questa copertina fece il botto il botto e da lì infatti poi il direttore di Max mi chiese di fare il calendario ma per me fu una conquista pazzesca primo perché come hai ricordato tu mio padre non aveva questo tabù perché sai della figlia che si spoglia cioè noi noi la nostra libertà a casa ce l'avevamo abbastanza non c'è mai stata questa criticità del stare completamente coperti a casa cioè non c'erano pruderie di nessun genere abbiamo sempre avuto un rapporto con la nudità abbastanza bello libero così e poi perché io che non ero mai stata così corteggiata che non avevo mai capito davvero la mia fisicità non ero mai uscita davvero così tanto mi piaceva molto stare con le mie amiche a casa al palocco e tutto finalmente qualcuno che mi mettesse su una copertina e su un calendario come una bomba sexy beh io ero pazza di gioia cioè ero piena di corteggiatori ero diventata il sex symbol d'Italia ce l'avevo fatta cioè da lì è stato impossibile non fare i conti con l'idea della bellezza che cosa è stata per te la bellezza quello che io volevo da quando ero piccola no però ad un certo punto io volevo essere considerata anche bella perché quando da adolescente non sono mai stata considerata non sono mai stata considerata così questo devo dire che vale tutto l'intervista non lo dice mai nessuno invece no invece è giusto no dai qualcuno lo dice che quando ero piccola ero la bruttina il brutto no troppo e poi sono sbocciante però qualcuno che dica finalmente che bello essere diciamo nella testa degli altri nell'immaginario immaginario degli altri io sono felicissima quando me lo dicono ancora adesso cioè non la trovo una volgarità non la trovo una cosa di una forma di maleducazione io sono d'accordo è volgare se tu pensi che sia volgare lo diventa è volgare il contrario è volgare il contrario esattamente c'è stata una cosa che a un certo punto ha detto Katrine Deneuve a proposito del Me Too è stata molto criticata per quello che ha detto e probabilmente l'ha detto nel momento sbagliato quando è appena uscito il Me Too ovviamente ogni frase sbagliata veniva presa con un'eccezione negativa un'eccezione proprio che secondo me lei non voleva intendere in quel momento ad un certo punto lei ha detto ridateci la libertà di essere corteggiate e ovviamente fermo restando che una molestia è una molestia e va condannata quello che può succedere è che a volte ci sono dei confini o delle linee sottili per cui non si ha più la possibilità di annusarsi di corteggiarsi e di e di trovare un'affinità con l'altra persona perché a volte c'è troppa paura David Frost grande conduttore televisione americano dice che la televisione è quel posto in cui tu fai entrare nel salotto di casa tua gente che non ospiteresti mai nella vita reale che permetti a chiunque di entrare nella tua vita per un'ora due ore tre ore al giorno tu l'hai capito dopo 30 anni che cos'è la tv? io penso che sia il contrario io nel mio caso penso che quelle persone che sono dall'altra parte e che non secondo Frost non potrebbero mai stare a casa mia potrebbero stare tutte a casa mia però tu hai detto che apri la porta che è un po' apri la porta entrano tutti giochiamo a burraco io faccio l'animatrice il mazzo lo tengo io però giocano tutte con me tu come hai fatto a venire a patti ammesso che tu sia mai venuto a patti con qualcuno con qualcosa nella tua vita a gestire il successo con la gentilezza e il garbo credo perché in questo mondo che sta diventando sempre meno gentile secondo me la gestione del successo si ha più facilmente se sei una persona garbata non so bene come spiegartelo perché è un po' difficile come no no invece ti hai spiegato benissimo una volta avevi citato una frase di quello che avevi definito il tuo erogo un grande commediografo e regista che si chiama Kenneth Branagh se i gentili abbia coraggio te la ricordi molto bene se i gentili abbia coraggio e abbia coraggio perché ti darà molto più forza di quel credito secondo me con la gentilezza col garbo e con il coraggio in questo caso me l'hai ricordato tu lo gestisci più facilmente anche stando con i piedi molto per terra e avere la percezione di quello che succede intorno a te perché è un attimo che il successo ti porta lontano ti porta via e ti porta con i piedi per aria è bello fare le montagne russe a me piace stare con i piedi per aria arrampicarmi da tutte le parti però poi dopo ad un certo punto devi ritornare nella realtà altrimenti non lo gestisci facilmente siccome te l'ho chiesto te lo chiedo di una cosa molto più importante tu che cosa hai capito dell'amore invece silenzio allora io sono molto romantica al contrario di quello che si possa pensare perché ho fatto due figli con due uomini diversi mi sono sposata mi sono separata e quindi si ha di me la percezione di una persona un po' frivola in realtà io sono sempre alla ricerca dell'amore eterno ho due genitori che si sono messi insieme che mia mamma aveva 16 anni mio padre 19 io ci credo tantissimo lo so che ormai sono più grande quindi vabbè ci dovevo credere prima io credo molto nell'amore e nella condivisione e nella passione e nei sorrisi e nella gioia quando questa gioia non c'è più per me l'amore non c'è quindi ho una visione un po' disincantata molto romantica ma la mantengo non cambia nonostante le vicissitudini della vita a Francesca Fagnari che ti aveva invitato a Belbo e tu hai detto no perché le hai detto no? perché siamo diventate molto amiche nel tempo e quindi le ho detto non vengo perché mi devo proteggere da me stessa in che senso di proteggere da me stessa? ti racconterai tutto e di più perché tendo a raccontare tante cose della mia vita privata quindi magari avrei fatto dei danni non lo so uno si deve tenere dei segreti delle cose per sé ma il problema è il proprio pudore o quanto si possono offendere gli altri? forse un mix tutte e due ma quando entro in confidenza con una persona poi tendo a raccontare un po' tutto di me e quindi adesso sto per uscire da quella porta dicono di te è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e Tender Stories io sono Malcom Pagani la cura editoriale è di Francesca Milano la supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli la post-produzione e il montaggio sono di Lucrezia Marcelli le registrazioni in presa diretta sono di Lucrezia Marcelli il producer è Alex Peverengo di Lucrezia Marcelli